Ogni tanto fa bene giocare, fa bene vedere gli amici e anche fa bene tornare in Italia perché non è che vengo spesso e volte. Quello sì, la Juve è stata importante per me, per la mia carriera e quindi tornare qua e vedere ogni tanto anche quello con cui ho giocato, con cui abbiamo fatto anche una storia, è importante, è bello e anche perché siamo anche venuti per una cosa importante. Questo tracollo bianco e nero? Sì, soffro come tutti. Noi vogliamo vedere la Juve sempre in alto, sempre con quello che è stata. È un po' dura adesso, però ci vuole un po' di tempo e forse tornerà come è sempre stata la Juve. E quanto ti fa vedere del Piero ancora a questi livelli? Beh, quello è bello di vederlo perché quasi abbiamo la stessa età e vedere sempre giocare con quello che ha fatto ancora, penso che è ancora in gamba, quindi è anche del Piero comunque. No, però non è quello. Io sono rimasto cinque anni e dopo cinque anni volevo andare via, però sono stato forse cinque anni più bene nella mia carriera perché ho cambiato tutto quando sono arrivato di Francia. Quindi non lo so, non si sa mai, però adesso ci sono persone che si preoccupano della Juve e speriamo bene.